Rai se non puoi mangiare i titoli i titoli, i titoli allora Chris non guarderò l'ultimo video ragazzi perché mi ha chiesto di non guardarlo in streaming perché se no poi non andate a guardarlo voi per cui nel caso guardatelo o abbandonate la streaming o guardatelo dopo e mi ha detto ragazzi Omi lo sai che ci sono dei posti qua cioè qua è molto più tranquillo di Italia e allora io ho detto cavolo mi hai dato uno spunto Chris perché non fare i quartieri più pericolosi d'Italia non andateci da soli adesso voglio voglio da parte vostra ad ogni quartiere un numero di stelle che va secondo voi da una stella a cinque stelle per grado di pericolosità va bene? è conosciuta in tutto il mondo per i suoi fantastici piatti per la moda e per Venezia Mestre ma la maggior parte delle persone però non sa che il nostro bel paese nasconde quartieri dove regna il degrado ma certo che lo sa e la criminalità è a livelli altissimi eh che criminalità questo a facciare luoghi in cui è meglio non passare da soli oggi sulla base dei dati forniti aspetta non è ancora iniziata non fate le stelle ragazzi voglio mostrarvi quali sono i luoghi più pericolosi in Italia ma non mi puoi fare il video tutto tutto thriller horror e poi metti avere sta cazzo di intro ciao ruler mando un bacio bro situato nella periferia di Catania il quartiere Librino è attualmente il più pericoloso e malfamato d'Italia è considerato la culla della criminalità siciliana dove gli omicidi e il traffico di armi stelle stelle voglio le stelle inizialmente questo quartiere era stato concepito come luogo di cultura quattro stelle e di innovazione ma purtroppo ciao terremoto è stato abbandonato su triste destino ah vedo che è pericoloso per voi lo conoscevate per caso conosciuto come Bronx o Barbon City Barbon City vabbè andiamo a Barbon andiamo a Barbon City Quarto Giaro è un quartiere che si trova nella periferia di Milano ed è da sempre la sede principale di attività criminali della città andiamo a Barbon City la vendita e le assunzioni di droga soprattutto da parte di minorenni qui è altissima anche perché questo quartiere è veramente poco controllato c'è da dire che negli ultimi tempi la situazione stia migliorando in quanto le persone del posto si sono ribellate Ernia che si sta facendo un paracadute nel caso nel caso la carriera con la musica andasse male ribellate a questo scempio umano cosa? in quanto le persone del posto si sono ribellate a questo scempio umano voi per caso ci siete mai stati? sì mi sembrava un buon quartiere detto la verità credo che il librino sia molto più pericoloso di Quartogiaro per quel che si voglia si voglia pensare il quartiere più pericoloso di Napoli non è Scampia oppure i quartieri spagnoli ma Rione e Forcella Napoli è una delle città meraviglie d'Italia conosciuta stimate ed apprezzata in tutto il mondo ma si freggia purtroppo di tristi realtà come il quartiere Forcella dove regna la disoccupazione l'abbandono scolastico l'emarginazione sociale la micro e macro criminalità e lo spaccio di droga vedo le stelle più alte di tutte Scampia e i quartieri spagnoli invece stanno mutando in meglio sta vincendo il quartiere Forcella per ora uè che fai un bello bucchino non so cosa sia tra i quartieri più pericolosi in Italia uno dei peggiori in assoluto è sicuramente quello di Begato a Genova situato una stella nella periferia è stato ribattezzato come il quartiere dei morti ammazzati il nome fa rendere bene l'idea tra carcassi di auto parottami ed edifici in completo stato di abbandono mi sembra degalato più che per le strade del quartiere Bergato è un vero pericoloso e disarmante non mi sembra io sinceramente eviterei e voi grazie uccello il quartiere di Palermo è purtroppo la triste realtà dell'Italia abbandonata se stessa all'interno di questo quartiere si spaccia in maniera incontrollabile c'è anche una delle cosiddette dispersioni scolastiche tra le più alte in Italia due ragazzi su tre abbandonano la scuola per entrare in una pericolata tantissime famiglie sono povere e vivono ammassate in dei veri e propri tuguri e spesso i bambini giocano tra i rifiuti ormai da anni la situazione è diventata ingestibile queste dove hanno tirato i sassi a Brumotti non riconosco le case perché ho una grande memoria visiva Brumotti dovrebbe essere al contrario su questa strada non così ma dalla parte opposta andiamo via di qua perché fa paura David andiamo via perché ti fa paura ma c'era anche David Rubino perché ti fa paura David andiamo via perché ti fa paura ci hanno già notato sì col telefono come sicuramente molti di voi avranno notato dopo la crisi mondiale in Italia lasciate un mi piace fatemi sapere nei commenti qua sotto se vivete in o vicino alcuni di questi piccoli quartieri e soprattutto iscrivetevi se siete nuovi al canale ma ora iniziamo subito numero 1 Librino Catania in Sicilia la medaglia d'oro tra i quartieri più malfamati d'Italia però spetta a un quartiere siciliano ovvero Librino che si trova nella periferia di Catania con il passare degli anni il quartiere catanese è diventato il triste simbolo della culla della criminalità siciliana atti legali di non poco conto come traffico di droga di armi omicidi e altri atti legali hanno conferito a Librino la portrona d'onore tra i quartieri italiani in cui non si dovrebbe mai risiedere nato come città satellite che doveva secondi piani se uno scrive non entrare è ovvio che la polizia entra qua non c'è niente qua non c'è droga è ovvio che la polizia entra il profumare di innovazione e cultura Librino è stato poi abbandonato a se stesso nonostante vi trovino la farmacia i supermercati e i cosiddetti diversi luoghi di aggregazione come per esempio il palazzo di cimento che è il principale è comunque finita chiamare la maggiore attrazione palazzo di cemento poca fantasia signori da parecchio in degrado costruita in modo completamente abusivo è la vera e propria centrale dell'espaccio totalmente inaccessibile dalle forze dell'ordine a Librino poi l'abusivismo edilizio è all'ordine del giorno i visitatori esterni scusate secondo voi con i soldi che ho risparmiato potrei costruire non comprare una casa costruire un edificio a Librino magari con un poco un poco fuori dalle norme i carni non sono ben visti a Librino ed è difficile entrare anche persino con una troupe per qualche intervista è praticamente impenetrabile e chiunque provi diciamo a infiltrarsi in questo quartiere non sarà sicuramente il benvenuto e sarà visto sempre con occhi sospetti quando calano le tenebre e si fa buio sicuramente non è il luogo in cui vorresti stare perché tra le varie mura di cemento di questo quartiere che sembra quasi abbandonato si svolgono alcuni degli affari più loschi di tutta l'Italia Quarto Oggiario Milano alcuni degli affari più loschi di tutta l'Italia Quarto Oggiario svolgono alcuni degli affari più loschi di tutta l'Italia Quarto Oggiario Milano anche la città finanziaria e capitale della moda mondiale non è scampata al degrado Quarto Oggiario si trova nella periferia di Milano ed è da sempre nota per essere la sede delle principali attività criminose del capoluogo lombardo negli anni nonostante i vari sforzi fatti dalle forze dell'ordine la situazione non è mutata completamente Quarto Oggiario è un quartiere sicuramente poco controllato dalla polizia di stato è il primo esponente del corsivio sembra che proprio in questa zona la vendita della metanfetamina sia ai suoi massimi livelli se si pensa che questa sia tra le droghe più pericolose in assoluto si capisce anche la portata di questo fenomeno a Quarto Oggiario non è affatto complicato trovare dei minorenni completamente immersi nel mondo dei superfacenti sia come spacciatori che come utilizzatori stessi e non sono pochi i giovani che perdono la vita nella solitudine dei vicoli di questo quartiere la depressione scolastica supera il 30% ed è quindi a livelli non indifferenti abbastanza recente è un caso di cronaca nera che ha riguardato Quarto Oggiario e che è avanzato agli onori della cronaca su tutte le televisioni nazionali questo riguardava infatti una lotta tra clan e l'uccisione di un esponente del clan dei tratone Quarto Oggiario è uno di quei quartieri che non vorresti mai e poi mai andare a visitare anche se la tua ragazza abitasse lì e ti dicesse che fosse solo a casa ora ci muoviamo anche le gag ci vediamo a Genova come invece a Genova e parliamo del quartiere Begato qualcuno qua ha copiato qualcun altro eh di Genova il quartiere genovese di Begato è tra i quartieri malfamati italiani in cui si può veramente dire che la morte sia all'ordine del giorno non è infatti un caso se questa zona della periferia di Genova è tristemente nota come il quartiere dei morti ammazzati inoltre qualcuno ha decisamente copiato qualcun altro credo che lui sia più bravo lavorarsi per le strade di Begato è quasi disarmante specialmente quando non si è abituati a questo tipo di realtà vige infatti la desolazione più assoluta in varie zone poi sui marciapiedi si trovano sparsi dei mazzi di fiori a ricordare un omicidio magari è venuto proprio in quel luogo poco tempo prima o un incidente un scenario Belin suca poi è completamente da carcasse d'auto abbandonate altre bruciate edifici bui e fattiscenti sembra quasi un luogo apocalittico uno scenario particolare pochissimi sono gli scenari che richiamano la vita normale la farmacia della zona infatti si trova solamente nella parte alta per cui per arrivarci bisogna attraversare tutto il rione lo stesso dice si per il solo supermercato esistente in questo quartiere dimenticato vittima del degrado e della malavita vivono circa 2500 persone di cui una percentuale superiore ai tre quarti si trova sotto i servizi sociali e questo di certo è un dato che la dice lunga sulla situazione di Begato o invece ci cominciamo muovere verso sud e parliamo di Roma della capitale italiana e di un quartiere famoso quartiere Corviale il quartiere di Corviale a Roma entra a pieno titolo tra i quartieri più malfamati del bel paese in questo quartiere romano tra degrado e disperazione totale un ruolo di grandissimo rilievo è ricoperto dalla cosiddetta polvere bianca e comunque in genere da qualsiasi tipologia di droga gli scambi della sostanza le vendite e persino l'utilizzo tra le vie del quartiere avvengono in totale libertà e con una facilità quasi disarmante il serpentone è il lungo simbolo del quartiere di Corviale si tratta di edifici dedicati per lo più alle attività della camorra e della criminalità organizzata romana vi si verificano spacci di droga omicidi e sembrano quasi blindati contro i blitz delle forze dell'ordine sembra comunque che il quartiere sia oggi oggetto di una tentata opera di riqualificazione degli enti sociali ma nonostante i diversi anni di impegno da parte di tutta questa entità e organizzazioni la situazione non è cambiata ed è ancora stracolmo di personaggi strambi che sono spesso dipendenti dalle droghe oltre che spacciatori passare di fianco a questo quartiere con l'auto sembrerebbe quasi di vedere una zona abbandonata disabitata quando però in realtà qui abitano più di mille persone e sono moltissime le vite che in un modo o nell'altro sono state completamente perse in questo luogo detto anche maledetto se siete di Roma fatemi sapere nei commenti qua sotto se l'avete mai visitato o se l'avete anche solo mai intravisto da lontano ora scendiamo ora scendiamo ancora di più e arriviamo a Napoli e parliamo del quartiere Forcella Forcella è uno dei quartieri più tristemente noti di Napoli nella città partenopea orgoglio italiano sotto mille punti di vista non mancano purtroppo realtà di questo tipo si ricordano anche Scampia o i quartieri ma cosa si ricordano vista non mancano purtroppo realtà di questo tipo si ricordano anche Scampia o i quartieri spagnoli a Forcella però aspetta un primato davvero poco invidiabile sembra infatti ma secondo me non sa un cazzo questa è lui che ha copiato l'altro aveva fatto ricerche perché cazzo i nomi di Scampia lo sa tutti il stato che si chiama Scampia che proprio qui abbia avuto i Natali anni o sono la gravissima piaga del contrabbando Forcella è sicuramente un rione entrato a pieno titolo nella storia della camorra e della criminalità organizzata di Napoli il boss Giuliano per esempio apparteneva a un clan di Forcella ultimamente appelli importanti ad allontanarsi dalla malavita arrivano dalle chiese della zona che cercano di ridimere i giovani facendo capire loro che anche dinanzi alle situazioni più complicate esiste sempre una via d'uscita e che la criminalità non è l'unico modo per andare avanti nella propria vita nel frattempo però in questo luogo maledetto fioriscono immaginazione sociale disoccupazione e abbandono scolastico ora ci muoviamo di nuovo verso nord e entriamo questa volta a Torino parliamo di San Salvario quando si parla di San Salvario a Torino da almeno dieci anni la parola d'ordine è riqualificazione con l'avvento delle Olimpiadi del 2006 infatti la zona adiacente a Porta Nuova ha subito un restyling che nel corso degli anni successivi l'ha resa il cuore di una movida tutta nuova locali alla moda alcuni molto curiosi e vivaci ma soprattutto multiculturali nonostante ciò nell'immaginario collettivo San Salvario è ancora uno di quei quartieri di Torino più difficili complice la presenza di alcune zone di spaccio di droga e la vicinanza con la stazione da sempre ritrovo di figure poco raccomandabili purtroppo San Salvario continua ad avere una nomea piuttosto chiacchierata nonostante tanto sia stato fatto per avere una nomea piuttosto chiacchierata nonostante tanto sia stato fatto per entrare nella rosa dei migliori quartieri di Torino c'è ancora un po' di strada da fare ed è sicuramente un quartiere in cui è meglio non avventurarsi da soli di notte purtroppo in Italia la sensazione di sicurezza percepita dai cittadini non è sempre confortante sono infatti tante le città dove il numero dei crimini denunciati è davvero alto è stata compilata infatti un'apposita classifica che cataloga le città più pericolose d'Italia stranamente ai primi posti figurano città considerate tranquille mentre alcune altre tristemente note per l'alto tasso di criminalità si trovano in realtà in posizioni più basse è bene tenere in considerazione alcuni fattori quando però si guarda questa classifica infatti è possibile che nelle città che risultino meno pericolose vengano denunciati meno crimini e questo permette ai criminali di restare impuniti la delinquenza inoltre sembra aumentare di proporzione all'afferenza di turismo tra le città più pericolose abbiamo Venezia con 6.995 denunce ogni 100.000 abitanti poi abbiamo Bari in Puglia con 7.046 denunce ogni 100.000 abitanti poi abbiamo Genova in Liguria con 7.136 denunce ogni 100.000 abitanti poi abbiamo Rimini in Emilia Romagna con 7.606 denunce poi al sesto posto abbiamo Roma in Lazio con 7.789 denunce ogni 100.000 abitanti poi abbiamo Catania in Sicilia con 8.783 denunce abbiamo poi stranamente Firenze in Toscana con 9.924 denunce poi abbiamo Torino in Piemonte con 10.671 denunce al secondo posto abbiamo Bologna in Emilia Romagna con 15.478 denunce ogni 100.000 abitanti al primo posto abbiamo niente di meno che Milano in Lombardia quando dice Grazie a tutti.